Buonasera a tutti ragazzi, sono Alex e bentornati qua sul mio canale Allora, faccio questo video ragazzi tra l'altro con la mia nuova Canon Ragazzi, appena comprata, quindi la qualità dovrebbe essere davvero spaventosa Perché è appena uscita questa videocamera, ragazzi, mi è costata un occhio della testa Quindi penso che il suo dovere lo farà molto bene Sono qui per parlarvi ragazzi del nuovo progetto Che sicuramente vi avrà quantomeno un po' stupito, ok? Vi avrà stupito perché è arrivato così all'improvviso Anche se avevo in mente già da qualche, forse, dieci giorni di appunto fare questo progetto Vi devo delle spiegazioni perché è arrivato talmente all'improvviso Che magari avete pensato, va, sarà un trailer fan made per dare omaggio alla saga di Ghostface Ragazzi, così non è perché c'è un vero e proprio progetto dietro Arriverà un vero e proprio film qua sul canale Diretto da me ragazzi, basato sulla saga cinematografica di Ghostface Ovvero Scream del grande regista, ragazzi, Wes Craven Che purtroppo ci ha lasciati nel 2015 Quindi ragazzi, siccome vedo difficile un film di Scream senza Wes Craven Perché l'ha detto anche l'attrice che interpretava Sidney Prescott nella saga Wes era il cuore pulsante della saga Giustamente del regista, quindi uno Scream 5 senza di lui ragazzi Lo vedo un po' come un Metal Gear senza Hideo Kojima Cioè, l'esempio ragazzi per me è quello Quindi ragazzi, più che mai ho deciso di realizzare questo film in onore di Wes Craven Ragazzi, in memoria del gran regista Che ci ha adorato tante, tanti film horror di successo Ragazzi, come Nightmare, Scream Ragazzi, veramente un pezzo della mia infanzia E da, diciamo, fan dell'horror Non potevo non fare una cosa del genere Quindi, il reveal trailer l'avete visto ragazzi Sarà una storia avvincente Stiamo già scrivendo la trama, i dialoghi ragazzi Scimiciatura, tutto Io sono il regista e anche attore E ci sarà Angel, la mia ragazza che si occupa della, diciamo, scrittura della trama Dialoghi, quindi sceneggiatrice E ragazzi, non vedo l'ora di portarvi questo Questo film sul canale Davvero, è un progetto che richiederà non so quanto tempo per essere completato Perché un film non si fa in un giorno, chiaramente Quindi, io spero ragazzi che siete in hype Perché ci tengo, ok? Ci tengo Questa ragazzi, vi dico già da subito Che non sarà ovviamente la maschera ufficiale del film Questa maschera ragazzi È una maschera un po' standard di Ghostface Ma non sarà questa la maschera ufficiale del film Perché sul film ci sarà la maschera originale La maschera originale dei film di Wes Craven Quella ragazzi sarà proprio quella ufficiale E questa non sarà la maschera Quindi, diciamo, che apparirà nel film Quindi tranquilli Però ragazzi, davvero Io spero siate in hype Tra l'altro spero che questa nuova qualità video vi piaccia E nulla ragazzi Bene, adesso è tutto Ci vediamo prossimamente Con questo film Davvero, spero di fare un buon lavoro E di regalarvi comunque delle emozioni Basate su appunto una saga di Scream Che è la mia saga horror preferita Quindi ragazzi Sento molto il peso della responsabilità Di portare un buon prodotto E ragazzi, niente Ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Ciao